Nemmeno il tempo di godersi la vittoria di domenica contro l'Ostica Arzanese, che già si presenta alle porte una nuova sfida per gli 11 di Agovino. Il turno infrasettimanale causa le festività pasquali, ha ridotto i tempi per gli allenamenti e per le tattiche. Domani si gioca a Monopoli. Oggi è come se fosse venerdì, non abbiamo potuto fare grandi cose, veniamo comunque dalla partita domenicale, perciò siamo andati un poco a fare un defaticante con chi ha giocato e un differenziato con chi non aveva giocato. Perciò non c'è molto da preparare, anche perché domani si va di rifinitura e si parte. Una settimana speciale, vogliamo fare una Pasqua fatta bene, anche se magari economicamente un po' così, però almeno sportivamente la vogliamo fare bene, perciò si va a Monopoli convinti di poter fare un buon risultato. La speranza in casa Quilotta è che finalmente si riesca a portare a casa un risultato utile che in trasserta manca da parecchio tempo. Mi sembra una squadra incompiuta, in casa è diventata un fortino, fuori casa non si riesce da Manfredoni a fare un punto, perciò domenica, giovedì, mi auguro che la squadra ritrovi quello smalto, quel furor agonistico da poter fare il risultato magari pieno. Vabbè, diciamo che comunque un po' di tranquillità si è persa, non è facile lavorare in queste condizioni, quando non tieni quasi niente, non ci sta una società, non ci sta niente, ci siamo solo noi. E ti ripeto, insieme a Riccardo Danimi che andiamo avanti, però non è facile sempre trovare gli stimoli giusti, soprattutto quando vai fuori casa, quando non ci stanno nemmeno i tuoi tifosi. Però ti ripeto, sono tutte cose che lasciano il tempo che trovano, comunque se non fai risultato ci sta qualcosa che non va. E noi già da domenica cercheremo di rimediare a tutte queste cose. Con la sconvitta a tavolina del Bisceglie, adesso un posto playoff è più vicino? Mi dispiace per l'amico Claudio De Luca, l'allenatore del Bisceglie, però chi commette errore paga, l'Andrea non ha pagato, nonostante l'errore commese ha pagato il Bisceglie, che ci avvicina almeno alla zona playoff, perciò ci giochiamo tutto in queste ultime sette partite, che devono essere veramente sette finali. E' alla faccia di chi diceva che la Cavese doveva giocare magari queste ultime partite in modo diverso, così da poter regalare punti a destra a manca. Non regaliamo niente a nessuno. Abbiamo fatto con l'Arsanese, abbiamo fatto così con le altre squadre, col Pomigliano, ci batteremo sempre allo stesso modo. Dico questo perché ho sentito alcuni vostri colleghi quasi polemizzare della voglia che ci ha messo domenica la Cavese contro l'Arsanese, ma non si regala niente a nessuno.